Audizione stamattina in Commissione Sanità del Consiglio regionale per l'Assessore della Sanità Mario Niedu. All'ordine del giorno dell'organismo presieduto da Domenico Gallus la situazione pandemica in Sardegna, l'andamento della campagna vaccinale che ieri ha subito un nuovo rallentamento con poco più di 6.000 dosi inoculate, ben al di sotto delle 12.000 somministrazioni quotidiane, secondo l'obiettivo iniziale fissato dal generale Figliuolo per la Sardegna. Una nuova spinta ad accelerare sul fronte delle inoculazioni potrebbe arrivare dal coinvolgimento effettivo dei medici di base, ma la Sardegna, dopo aver recuperato posizioni, è tornata nella zona retrocessione della classifica delle regioni per percentuale di inoculazioni sulle dosi consegnate, a tenere banco anche l'eventuale passaggio dell'isola in zona gialla. L'Assessore Niedu, prima di intervenire in Commissione Sanità, ha annunciato che la Sardegna chiederà con forza la revisione di questi parametri che hanno portato la Sardegna prima in zona arancione e poi in zona rossa, dove è rimasta per più tempo del necessario, considerato che da tre settimane i nostri numeri sono in zona gialla, ha precisato l'Assessore Niedu. Un'istanza che l'esponente della Giunta Solina si presenterà nel pomeriggio in sede di conferenza delle regioni. L'Assessore Niedu chiederà infatti che l'isola venga ammessa alla zona gialla dal lunedì 10 maggio, invece di attendere le due settimane canoniche, ma per poter fare questo è necessaria la modifica dei criteri che definiscono le fasce di colore.